Buongiorno ragazzi, eccoci qua ben ritrovati, allora vorrei fare un piccolo video di incoraggiamento alla nostra nazionale che questa sera alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma farà il suo debutto ufficiale in questi europei di calcio che a causa pandemia sono stati rinviati di un anno, dovevano svolgersi l'anno scorso, ma sono stati rinviati appunto di un anno e quindi quest'anno avremo gli europei, quindi il calcio neanche in estate non ci abbandona. Quindi che dire ragazzi, vorrei fare un in bocca al lupo alla nostra nazionale che questa sera appunto alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma scenderà in campo per la prima partita del girone contro la Turchia, quindi partita come dire sulla carta dovrebbe essere abbordabile ma sappiamo che in queste manifestazioni non c'è niente di scontato, nulla è scontato, quindi che dire, forza azzurri, forza azzurri, dobbiamo tutti quanti indipendentemente dalla nostra fede calcistica supportare la nostra nazionale come abbiamo sempre fatto, come abbiamo sempre fatto e niente staremo a vedere, staremo a vedere che cosa riusciremo a fare, sarebbe bello, sarebbe bello riuscirlo a vincere perché ve lo voglio ricordare, noi nella nostra storia un europeo l'abbiamo vinto ma l'ultima e per il momento unica vittoria risale a lontano 1968 quando a vincerlo furono giocatori del calibro di Giacinto Facchetti, Gigi Riva, Sandro Mazzola, Tarcisio Burnic, Anastasi, giocatori del passato che alcuni purtroppo non ci sono più e quindi sarebbe bello, sarebbe bello dopo quasi dopo più di 50 anni, sarebbe bello riuscire a portare a casa la Coppa. Il gruppo è unito, quindi Mancini, il nostro CT, ha fatto un buon lavoro da questo punto di vista, quindi ha cercato di lavorare molto sull'unità, sul gruppo e anche sulla appartenenza, nel senso appartenenza alla maia, alla nazione che stai rappresentando e anche i cosiddetti giocatori oriundi che non nascono 100% italiani ma possono per via dell'originalità avere dell'origine italiana, possono giocare con la nazionale italiana, quindi anche da parte dei giocatori oriundi c'è questo attaccamento alla maia e quindi questa cosa mi fa molto piacere. Quindi che dire ragazzi, tutti quanti noi oggi per tutta la durata della manifestazione finché saremo ancora in corsa per la vittoria finale dovremo indipendentemente dalla nostra fede calcistica, quindi che tifiamo Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio, Napoli eccetera eccetera eccetera, tutti quanti italiani tutti dobbiamo sostenere la nostra nazionale. E niente ragazzi, quindi che dire, forza azzurri, forza azzurri, non dico altra parola perché sembra uno slogan politico, però forza azzurri, possiamo dirlo, quindi forza azzurri, mi raccomando scendete in campo con la giusta cattiveria agonistica, agonistica sempre, bisogna sempre avere il rispetto dell'avversario, però dobbiamo, dobbiamo assolutamente fare una bella figura, quindi già da stasera voglio vedere una bella Italia, una bella Italia che scende in campo, che fa il bel gioco, quindi possiamo, possiamo, sta tutto a noi, sta tutto a noi, quindi vedere come scenderemo in campo appunto questa sera alle ore 21 allo stadio olimpico di Roma, c'è il debutto ufficiale della nostra nazionale contro la Turchia, quindi non è assolutamente una passeggiata. E poi, 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 altra cosa positiva è che potranno assistere alla partita 14 mila persone, quindi 14 mila persone potranno andare allo stadio e quindi per tutta la durata della manifestazione, non solo per la partita dell'Italia, quindi in tutte le partite, in tutti gli stadi dove si svolgeranno gli europei, 14 mila persone potranno, giustamente, con le dovute precauzioni, quindi se sono vaccinati, se sono tamponati, con le mascherine, quindi distanziamento, 14 mila persone, quindi il 25% della capienza dello stadio può essere occupato dai tifosi e quindi questo è un bellissimo segnale. E poi, io penso, io penso che questa cosa serva alle autorità sanitarie e a chi di dovere anche per monitorare un'eventuale apertura per la prossima stagione calcistica a livello di club, quindi in questo mese di manifestazione dell'europeo per nazionali, quindi in questo mese si vedrà se si potranno aprire gli stadi anche per i vari campionati, quindi sarebbe bello, perché così almeno parlo per me, ma quindi posso parlare anche per voi, possiamo, possiamo, possiamo finalmente tornare allo stadio. E quindi che dire ragazzi, che dire? Forza azzurri, forza azzurri, mi raccomando, cominciamo, cominciamo con il piede giusto, è fondamentale fare una bella figura in questa partita e che dire, io ad ogni video, ad ogni partita della nazionale farò un breve video, quindi stasera dopo la partita farò il video post partita e sarà, sarà inserito, inserito esclusivamente sul primo canale YouTube, quindi non sul secondo, non sarà su Inter nel cuore, ma i video della nazionale verranno caricati sul primo canale, sul mio primo canale YouTube che è Russell Superman e anche questo video andrà su Russell Superman. Quindi diciamo che la manifestazione della nazionale sarà dedicata esclusivamente sul canale Russell Superman. Prima di salutarvi, saluto, saluto e ringrazio il nuovo iscritto, quindi siamo arrivati su Russell Superman a 79 iscritti, grazie, grazie, e mi raccomando, continuate a seguirmi e niente, Forza Azzurri, ci risentiamo, risentiamo questa sera dopo la partita, quindi verso il video sarà caricato intorno alla mezzanotte, quindi dopo la partita, il tempo di, visto che la vedrò in compagnia di amici, quindi il tempo di tornare a casa, rassettare un po' le idee, poi fare il video e poi dopo l'indomani, quindi dalla mezzanotte, il video sarà già in rete e quindi ve lo potrete gustare. Quindi che dire, io per il momento vi saluto, vi auguro una buona giornata, mi raccomando, sosteniamo tutti la nostra nazionale, la nostra nazionale italiana, quindi Forza Azzurri ragazzi, mi raccomando, scendiamo in campo con la giusta cattiveria e a risentirci, a risentirci molto presto, prestissimo dopo la partita. Ciao, buona giornata.